Marchetto si alza e dice Montemagno Pallato di merda, chiudiamo account E io? E io non ho più l'account Facebook, cosa faccio? Chiamo Conte? Non so, chiamo Salvini e dico Salvini mi ha chiuso l'account, attacchiamo gli... Cioè l'unica mia speranza Ad oggi la mia unica speranza di sopravvivenza facendo contenuti in lingua italiana è che Salvini e Di Maio decidano di invadere gli Stati Uniti e la Cina e impongano come lingua l'italiano così i miei contenuti possono sopravvivere e ho una leva maggiore con Marchetto ma se no Marchetto mi chiude l'account e zero